Ciao a tutti, bentrovati! Allora, con il video di oggi volevo parlare di un cartone animato e in particolar modo fare qualche riflessione su delle immagini che mi sono saltate all'occhio. Allora, questo tipo di analisi è una cosa che possiamo fare osservando l'ambiente, osservando la televisione, osservando i video musicali, i film, le sigle dei film, qualche spot pubblicitario, eccetera. Quello che volevo specificare è che quello che sto per dire non è ovviamente una deduzione scientifica che diciamo che quello che osservo è assolutamente la verità. È un approccio di osservazione che mi permette di fare qualche riflessione per poter osservare un po', per poter stare, cioè, diciamo che queste osservazioni devono essere prese un po' così come vengono, non è una cosa da apprendere proprio seriamente, è un modo per osservare le cose, perché sicuramente sono imprecise le cose che sto dicendo. Ad ogni modo, inizio! Vi racconto, stavo pensando a una sigla di un cartone animato che mi piaceva molto come sigla, il cartone era sempre Tiristetti, io sto parlando di Candy Candy, però la sigla musicale è piacevole e mi richiama dei ricordi di quando ero piccola, così come altre sigle dei cartoni animati degli anni Ottanta. E in particolar modo stavo riflettendo, sentendo la canzone di Candy Candy, che ci sono delle informazioni, dal mio punto di vista, subliminali, che tendono a formattare il bambino che ascolta e che vede il cartone. Cioè, sostanzialmente, la sigla è piacevole, però è portatrice dell'informazione di solitudine, sostanzialmente. Cioè, come posso dire, di una brava bambina, allegra, nonostante tutte le robe che gli succedono, perché per chi ha visto il cartone animato di Candy Candy è un continuo vivere delle sofferenze, no? Dei lutti, delle prevaricazioni da parte di questi personaggi con cui lei aveva sempre occasione di incontrare. Mi sembra che si chiamino Nils e Iride, qualcosa del genere, ora non mi ricordo. Ad ogni modo erano dispettosi, quasi a livello delinquenziale, cioè la rinchiudevano in uno stanzino, in una soffitta per una giornata intera, insomma, lasciamo perdere. Il fatto sta è che stavo facendo delle riflessioni, che praticamente ho collegato un piacevole sentimento, seguendo la sigla di Candy Candy, ha in realtà i contenuti, direi ma, definirei macabri, del cartone animato, dei contenuti veramente tristi. Ok, perché sto parlando di Candy Candy se in realtà il titolo riguarda gli occhi di gatto? Perché, guardando la sigla, sentendo la sigla di Candy Candy con un tono anche un po' nostalgico, se vogliamo, diciamo che poi mi sono un attimo, diciamo che poi sono nate queste riflessioni, non ho più pensato alla sigla, ah che carina, mi ricorda quando ero piccola, ma sono passata a queste riflessioni qui, ascoltando attentamente le parole della sigla, sto sempre parlando di Candy Candy, e praticamente nella lista sigle musicali di YouTube c'era l'immagine di occhi di gatto, al che mi son detta, no, era carina anche la sigla di occhi di gatto, ma fammela risentire, e allora ho cliccato occhi di gatto, ovviamente piacevolmente nostalgica, mi sono ascoltata anche occhi di gatto, ora purtroppo non posso mettere la sigla di sfondo, perché c'è il copyright e mi bloccano il video, per cui non la metto, ma in compenso ho messo il testo, perché in qualche modo volevo sottolineare alcune cose, allora faccio un riassunto di quello che andrò a dire, così sapete già cosa vi aspetta, nel senso che non voglio dire chissà cosa in questo video, per cui non aspettatevi chissà che, sono delle piccole riflessioni, ok? Per cui, di cosa volevo parlare? Volevo parlare di, uso questo colorino per uno, i colori usati per le tutine di queste belle ragazzi, di queste figliole che vanno a giro a rubare, hanno queste belle tutine colorate, tinta unita, e diciamo che il video affronterà, come dicevo in modo leggero, non vi aspettate chissà cosa, dei colori delle tutine, accennerò qualcosina che mi sembra di intravedere, sempre da questa foto e da altre, il solito discorso sempre legato al colore delle tutine, praticamente del solito piano cartesiano e della divisione degli ottanti, ok? Inoltre ci sarà anche, inoltre ci sarà qualche commento delle parole utilizzate, parole nella sigla, ok? e del fatto che appare il biglietto da visita di queste ladre, che rappresentano gli occhi di gatto. Quindi, così vi ho già preparato della serie Oioi, non mi interessa, ma è che ci racconterà, così siete già pronti, dite ma no, dai, non c'ho voglia, e pigiate stop se volete. Ad ogni modo, questi sono gli argomenti di questo video e direi pronti, attenti, via. Allora, come dicevo, stavo nostalgicamente ascoltando, allora vediamo, intanto questo ce lo prendiamo, allora questo ce lo prendiamo, lo rimpiccioliamo un po', allora mi rimpicciolisco gli argomenti di cui vorrei parlare, così almeno non mi distraggo, poi se magari mi viene in mente qualcosina da aggiungere, lo farò, ma non in modo così incisi, così particolarmente, cioè non cambierò così tanto argomento, ecco, cerco di basarmi su quello che vi ho anticipato. Allora, intanto cosa volevo dire? Volevo dire la prima cosa, come dicevo, quello che vado a dire è un po' una cosa intuitiva e approssimativa, perché bisogna, se io inizio a parlare del colore delle tutine e faccio un riferimento ad anima, mente e spirito, ci sono vari fattori da considerare, ossia la consapevolezza del disegnatore, cioè come si trova, in che stato si trova, oppure bisognerebbe verificare se lo storyboard, ossia la descrizione dei personaggi, la didascalia, tutte le descrizioni dei costumi, delle cose sono studiate a pennello, diciamo, sono studiate a tavolino da qualcuno che ovviamente non è il disegnatore, ok? Quindi prendiamo per buono che qui stiamo analizzando una parte a specchio di qualcosa che ci sta, cioè qualcosa che possiamo osservarlo come un qualcosa che ci comunica delle informazioni, indipendentemente se queste informazioni sono volute, come dicevo, studiate a tavolino, uno potrebbe citare coloro che si iniziano con la I, cioè la doppia L e finiscono con Asi, ma potremmo dire diverse cose, ma non è questa la sede, perché a me interessava semplicemente flettere su come ci arrivano delle informazioni e se arrivano in particolar modo a noi di quando abbiamo 10 anni, 15 anni e comunque siamo piccolini, queste informazioni ci arrivano in modo molto più amplificato dal mio punto di vista, perché un bambino è molto ricettivo ed è come una spugna, per cui diciamo che gli viene fatto un imprinting. Ad ogni modo iniziamo, se no qui faccio delle triple premesse e introduzioni. Allora, ascoltando la sigla Tre ragazze bellissime, cosa si può notare? Che nella scritta, nella sigla, quindi femminile, ragazze, bellissime, cioè hanno qualcosa di speciale, sono bellissime. La prima cosa che, il primo collegamento che faccio è che sono le tre sfere. Sono tre sfere, cioè quando archetipicamente il bambino ascolta, gli sta arrivando un'informazione in superficie che si sta parlando di tre ragazze bellissime, però in realtà, dal mio punto di vista, seguendo il filo del discorso di oggi, perché potremmo osservare le cose con tante sfaccettature, ma diciamo che oggi le affronto così, voglio usare questa chiave di lettura, stiamo parlando a un bambino che le sente queste sfere, perché è ancora quasi incontaminato, diciamo. Quindi cosa succede? Che è un racconto, tre ragazze bellissime, e qui, come dicevo, la chiave di lettura, stiamo parlando delle nostre tre sfere speciali, tre sorelle furbissime, quindi sono legate fra di loro, ok? Intanto si utilizza una parola, non positivissima, perché furbe vuol dire non intelligenti, vuol dire che usano degli stratagemmi, delle strategie per risolvere le cose o per fare le cose, quindi non stanno usando consapevolezza, ma stanno usando una strategia nel mondo virtuale per sopravvivere, per vincere, non la loro vera natura, ma quella superficiale. Sono tre ladre abilissime, appunto, quindi si sta dicendo sono ladre, e a quel punto la parola ladre, in qualche modo, giustifica l'essere bellissime, l'essere speciali, col fatto di essere ladri. Quindi viene giustificato, in qualche modo, è quasi messo su un piedistallo, colui che ruba, e a quel punto, la chiave di lettura, passa all'osservazione dell'entità, l'entità che è parassita. Nel senso, il parassita è bellissimo, bravo, è ladro, ok? Molto sveglie, agilissime. Quindi, cosa succede in questa chiave di lettura? In qualche modo, le sfere che sono bellissime, speciali, se loro stesse vengono definite ladre, in qualche maniera, viene inserito un'informazione alla persona che ascolta piacevolmente questo testo, viene in qualche modo messa una semi-verità, una semi, come posso dire, una giustificazione, ossia, se io ti dico che tu sei una ladra, non puoi giudicare colui che ruba, in questo caso, l'entità, sappiamo che, secondo la chiave di lettura che stiamo studiando, rubano l'anima, in qualche maniera, cercano di rubare l'energia e comunque la consapevolezza dell'anima che non ha tempo. L'informazione che ha l'anima che è atemporale, quindi cercano di rubare quel tipo di informazione perché gli manca stando, come si vede dagli ottanti, diciamo, non avendo la componente animica. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui il ladro ti dice ladro, già ti definisce ladro, siccome l'essere umano prende l'informazione e se non ha consapevolezza di sé raccoglie e si informatizza dal mio punto di vista, prende per vero delle cose, quindi inizia a fare un discorso logico. Se io sono ladro, nel momento in cui trovo un ladro non lo posso accusare perché sennò devo accusare me stesso. Questa è la prima riflessione. Poi sono le tre ladri abilissime, molto sveglie agilissime. Mi viene anche da dire che la definizione di agilissime richiama un po', allora mi viene anche da fare questa riflessione, che l'informazione agilissime e sveltissime possiamo anche dire che se ci troviamo nella stanza mentale, se ci troviamo nella stanza mentale, è un po' come dare l'informazione nascondetevi, siete veloci, siete sveglie, se la persona sta nella sua stanza mentale di un mondo virtuale dove si costruisce delle pareti, sostanzialmente cosa fa? In qualche modo dà le informazioni che queste sfere non stanno ferme un attimo e si possono nascondere come ladre. Quello che succede quando uno non riesce a fare sostanzialmente il triadecolor test in alcuni casi, ovviamente non in tutti, questo è un tipo di problematica, ossia che la sfera non la vedi perché a livello magari si manifesta a livello cinestesico e quindi si muove ma non a livello visivo. Quindi con un'astuzia e perizia ed unendo sempre un poco di furbizia riescono sempre a fuggire e nel nulla sparire, ok? E qui siamo nella chiave di lettura che vi dicevo e nel nulla sparire. cioè diciamo che informatizzano il bambino a far sparire queste sfere dentro la stanza mentale quindi oltre ad essere informatizzato da un punto di vista visivo perché vedremo che le tutine hanno dei colori tutti sballati viene informato anche che queste possono sparire e che fanno anche bene perché le sono brave bellissime furbissime a questo e nel nulla sparire è questo il nome del trio compatto quindi avviene un'informazione archetipicamente vera all'origine perché il trio è unito cioè in realtà te lo sta spacchettando ti crea un triplo pacchetto disunito però ti dice guarda che è unito e quindi è una contraddizione è un trio compatto perché in realtà rimane trio c'è un trio compatto quando le vediamo anche nella siga nei disegni stanno vicine per dire però non stanno unite ovviamente sono tre sorelle che hanno fatto un patto ecco qui come ripeto si fa un po' per giocare prendiamola come un gioco come una fantasia come oggi ho voglia di fare due ragionamenti così e vediamo dove ci portano perché tanto sono tutte supposizioni che non hanno un fondamento però hanno possono avere una loro leggera parvenza di verità a livello archetipico quindi possiamo vedere questa cosa come un punto di riflessione come dico sempre e non come roba oh guarda i cartoni animati sono diabolici non è questa l'intenzione è di riflettere come il mondo della matrix è informatizzato e archetipicamente ci parla in continuazione di riflessi speculari che parlano delle nostre sfere nelle varie condizioni in cui si potrebbero trovare un tria del color test ci parla di una situazione di unità e per esempio altre cose come a volte ho postato per esempio un video dove parlo dei video musicali e vediamo che l'informazione visiva sostanzialmente è tutta uno spacchettamento di sembra di fare un tria del color test alla rovescia quindi continuiamo è questo nome del trio compatto tre sorelle che hanno fatto un patto allora come a volte mi capita di parlare in qualche video ci possiamo diciamo creare una teoria dove prima di manifestarci come a volte dico a metà del cielo c'è qualcuno che ci prova a dire guarda vai giù a fare un'esperienza di questo tipo un'esperienza dove imparerai la che ne so la compassione la bontà l'offerta diventi nasci povero rimani che ne so in una in una situazione dove con la tua sofferenza insegnerai alle persone che hai intorno la compassione quella e quell'altro una situazione magari scomoda perché da quella imparerai tante cose questa potrebbe essere una chiave di lettura del perché talvolta ci ritroviamo subito in delle cioè appena nati in delle situazioni che non ci spieghiamo perché magari sono degli accordi presi o allora cosa succede che a questo punto queste parole sono particolari perché non è un testo per bambini ad ogni modo dicevo è questo il nome del trio compatto sono tre sorelle che hanno fatto un patto la parola patto è una parola forte quindi cosa succede che a livello virtuale ci possiamo raccontare le cose in questo modo ok cioè virtuale perché la parte prima di nascere è comunque una parte vera che sta all'interno del mondo virtuale non è che non essendo ancora dentro il corpo fisico non stiamo vivendo la virtualità è probabile che ce la stiamo vivendo senza il corpo fisico invece si potrebbe leggere che hanno fatto un patto in modo archetipico proprio nella nascita della coscienza nel senso ci siamo divise abbiamo deciso di fare l'esperienza di dividerci essendo un patto e abbiamo deciso di essere ladre a specchio va bene che ci derubino ecco poi volevo anche dire così viene giustificata l'entità poi dice ecco ha colpito la di soppiatto fuggendo poi con un agile scatto occhi di gatto un altro colpo è stato fatto poi dice tre fanciulle sveltissime tre tipette esilissime sono tre ladre abilissime dolci ma modernissime senza forza né violenza praticamente senza forza gli manca l'asse dell'energia nella chiave di lettura che che mi sembra di leggere senza forza è comunque senza forza di volontà quindi in qualche modo giustifichi il fatto che si può fare le cose senza metterci forza uno potrebbe dire ah ma perché in qualche maniera si riferisce al non essere violenti perché dice senza forza né violenza allora vuol dire se uno già mette né violenza vuol dire che la violenza è già stata definita mentre la forza è qualcos'altro perché uno potrebbe usare la forza d'animo la forza di volontà perché sostanzialmente ci leviamo dai problemi magari dall'entità proprio perché decidiamo con un pensiero che ha una buona forza di volontà e che ci toglie da questo tipo di esperienza andiamo avanti poiché fanno sempre tutto con prudenza sono pronte a rubare solo cose assai rare e qui ritornando sempre nella chiave di lettura che vi dicevo si ritorna a qui cioè che qui stiamo parlando ma quali sono le ladre esilissime le ladre esilissime chi saranno mai senza forza né violenza poiché fanno sempre tutto con prudenza sono pronte a rubare solo cose assai rare cioè l'anima l'energia della la consapevolezza dell'eternità del tempo la consapevolezza di 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 che 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 comprende la l'informazione dell'asse del tempo solo cose assai rare ossia le sfere ok cioè le coscienze quindi in qualche modo non stiamo parlando delle tre ragazze stiamo parlando dell'entità è questo il nome del trio compatto sono tre sorelle che hanno fatto un patto ecco ha colpito la di soppiatto fuggendo poi con un agile scatto occhi di gatto un altro colpo è stato fatto è questo il nome del trio compatto sono tre sorelle che hanno fatto un patto ecco ha colpito la di soppiatto fuggendo poi con un agile scatto ok allora io volevo un attimo appunto osservare insieme questo testo particolare che potrebbe che è ovvio che può essere semplicemente ascoltato senza malizia e quindi queste sono solo supposizioni come vi dicevo e le mie supposizioni proseguono e ovviamente prendiamole con le pizze come dicevo perché non è che voglio che ne so rendere negativo qualcosa sto cercando di osservare delle cose che magari vedevo da piccina da un nuovo punto di vista senza giudizio ma con un tipo di osservazione diversa delle cose allora quello che volevo dire che il percorso che in qualche maniera ci interessa osservare studiare eccetera è il solito di cui spesso parlo ossia dell'asse dello spazio dell'asse cioè del piano cartesiano di cui ci parla il professor Corrado Malanga quindi abbiamo i nostri piani cartesiano i nostri assi che individuano il nostro ottante che sostanzialmente sta qua però poi studiamo anche che esiste come ottante anche l'antispazio che è questo ok l'antienergia che è il magenta ok che sta quassù e l'antitempo che sta di qua che è un giallino che è il complementare del blu ok allora io osservando questa immagine osservo che il bambino che guarda in qualche modo gli parla a livello visivo dice a livello visivo stiamo parlando di questo piano cartesiano qui dove stanno sostanzialmente quelli del piano di sopra dove anima che è blu sta nel suo asse del tempo e infatti sta a sinistra ok quindi il nostro asse cartesiano sta al suo posto perché quando è azzurro sta quando è blu sta nell'asse del tempo e la sfera sta al suo posto a sinistra perché il nostro lobo sostanzialmente artistico animico sta a destra quindi noi osserviamo l'anima a sinistra nella stanza mentale un'altra informazione ossia che c'è lo spazio che è di un arancione di un rosso che tende un pochino all'arancione però qui si vede una luce un appunto di luce arancione ma comunque va sul rosso ok quindi ritorno a dire stiamo parlando ecco questa immagine dal mio punto di vista insomma continuo a ripetervi prendetelo un po' così come un gioco perché non c'è niente di provato e di sicuro ecco diciamo che archetipicamente mi viene da prendere questa informazione ossia che stiamo parlando di questo tante qua ok cioè di quelli del piano di sopra e in qualche modo gli occhi ci indicano l'asse dell'energia dove va e siccome qui non c'è il verde nelle tutine non c'è il verde ma quella che sta nel mezzo e che è mente no mente se è verde abbiamo detto che stiamo parlando del colore delle tutine come se fossero le nostre sfere all'interno della stanza mentale no praticamente come dicevo anima ok sta a sinistra spirito sta a destra quindi ok anima ok spirito mente che sta nel mezzo dovrebbe essere verde cioè lei dovrebbe avere la tutina sostanzialmente verde perché a questo punto dovrebbe avere la tutina verde perché stiamo parlando di una triade e archetipicamente il disegnatore poteva inserire questo tipo di colore invece di inserire il colore verde ha messo il colore dell'anti energia che sta proprio al posto della sfera di mente cioè ci ha messo sto violetto che si avvicina al magenta sostanzialmente no ora cancello questa tutina perché sennò non si vede per cui c'è una sfera viola che non ci combina niente sempre secondo questa chiave di lettura ok quindi dal mio punto di vista il bambino guardando queste immagini gli arriva perché lui osserva con l'anima con l'occhio cioè con l'occhio emozionale il bambino emozionato coinvolto dalla sigla dalla cosa bella il cartone animato attiva quelle informazioni archetipiche interiori e quindi legge secondo me legge quello che gli arriva ossia gli arriva che stiamo parlando di questo asse cartesiano cioè che queste ladre abilissime da qui queste tre sfere si spostano qua e sono brave furbissime sono velocissime e praticamente si spostano nell'altro ottante quindi il bambino fa un viaggio sciamanico e si sposta coscienzialmente si sposta e fa entrare nello stesso tempo perché qui si giustifica il ladro che ruba cose rarissime ed è furbo e e e quindi bravo giustificato nello stesso tempo dà l'informazione al bambino stiamo parlando del trio compatto l'hai capito di cosa stiamo parlando il bambino si che ha capito di cosa stiamo parlando del trio compatto che ha fatto un patto ha fatto un patto cioè ha scelto le sue disarmonie da affrontare nel mondo virtuale cioè le separazioni ok questa è la mia chiave di lettura osservando questa osservando questa foto inoltre poi curiosamente mi son detta ma andiamo a vedere un attimo andiamo a vedere anche qualche altra foto ok e quindi mi sono ho trovato questa che la la metto magari qui così possiamo fare un confronto con quella che che abbiamo visto finora no magari la rimpicciolisco se no non c'entra più nulla allora notiamo vediamo un po queste che corrono sono loro e le mettiamo qua allora cosa notiamo allora intanto notiamo io noto questa cosa ossia che sto violetto praticamente si trova il violetto di questa magliettina qui sta dietro il giallo sta dietro al blu e questo viola sta dietro a un blu più forte e qui c'è un celestino praticamente questi tre colori che se li ritaglio perché se no non si capisce allora andiamo un attimo indietro perché ci ho disegnato sopra allora vediamo praticamente se io se prendiamo questa questa gamma qua cosa cosa notiamo notiamo che sono i colori dell'antimateria dell'anti sono i colori dell'antispazio della questo allora facciamo prendiamoci un altro coso questo per esempio è l'antienergia questo è questo qui questo giallino qui è l'antispazio è l'antitempo e questo celestino qui è l'antispazio questo celestino qui lo troviamo nell'anti questo celestino qui ce lo troviamo nell'antispazio che sta di qua quindi praticamente dietro abbiamo una dietro a questa a questa scena abbiamo l'antimateria l'anticoscienza tutto cioè sostanzialmente abbiamo quel luogo lì che è quel luogo che è praticamente l'opposto del nostro ottante ok sta in questo in questo quadrante qua poi dopo osserviamo che questa figliola è sempre vestita di rosso però questo rosso viene messo a questo punto lo spazio prende prende la il posto della sfera di anima il blu prende la posizione di mente infatti qui abbiamo il blu e dietro c'è il giallo perché in realtà sta parlando dell'anima e dell'anti dell'antispazio del tempo e dell'antitempo ok dietro il dietro il rosso c'è questo violetto che in realtà è lo spazio che in realtà sta qui quindi continuiamo con questo violetto a richiamare l'antienergia che viene confusa con l'anima quindi praticamente l'anima sta dietro sta nella posizione di spirito e infatti qui abbiamo spirito cioè praticamente queste sono incrociate e questo è la situazione di un triade color test di quando c'è un'interferenza quando spirito che dovrebbe stare qui prende il posto di anima e nel mezzo in realtà c'è anima che prende il posto di mente è probabile che c'è un'interferenza dove le sfere vibrano in un'altra maniera e qui l'informazione ci sta dicendo il motivo per cui c'è questa situazione di queste tutine è perché dietro si sta parlando dell'antimateria cioè perché dietro si sta parlando dell'intrusione dell'informazione dell'intrusione questo è come la interpreto io osservando questa foto si può anche notare c'è il richiamo di anima qua che sta al posto di mente quindi anima blu che guarda un po' c'è la fascettina gialla dove dove si sta parlando dell'antitempo perché abbiamo detto che il tempo è un bel blu ok il tempo è un bel blu ed è rappresenta l'anima ok mentre il giallo è l'antitempo infatti lei contiene la fascettina gialla che sta dietro questo giallo si ripete qua dietro e la fascettina qui azzurra ripete il blu che non potevano farlo blu scuro così perché sennò sembrava che si mischiava col viola è un azzurro questo è l'azzurro che è l'azzurrino che sta nell'antispazio perché effettivamente questo è il posto di spirito spirito sotto sotto vibra a rosso e praticamente sta dicendo ok qui c'è un viola c'è un blu ma in realtà si sta parlando di spirito e ce lo suggerisce l'antispazio con questo colorino qui ossia si sono al mio posto ma alla rovescia c'è l'antispazio perché infatti sono di qua ecco questa è l'altra cosa che volevo dire osservando questa foto e poi concludo facendo delle osservazioni su facendo delle osservazioni su queste due immagini perché il video sta diventando troppo troppo lungo e notiamo che effettivamente allora i colori li conoscono i colori li conoscono ossia che in questa foto nel mezzo appare magicamente mente verde appare mente verde ma lei la riconosciamo è quella degli occhi di gatto col capello liscio che ha sempre la tutina blu e quindi siamo alle solite ossia che lei che dovrebbe essere vestita di blu ossia che dovrebbe essere vestita di verde la vediamo sempre vestita di blu perché è sempre perché perché l'anima subisce una vibrazione che in realtà viene fuori verde e sta nel mezzo ma lei è blu perché se andiamo a vedere le tutine di prima impariamo che lei è blu lei è blu e siamo alle solite che la mettono nel mezzo che o la fanno cioè praticamente la posizione di di lei che non mi ricordo come si chiama se a lei vogliono dare la tutina blu la devono mettere sempre a sinistra e invece cosa fanno quando la mettono nel mezzo la fanno allora vediamo un po' cambiamo scriviamo un altro allora quando la mettono la cosa curiosa parliamo in questi termini la cosa curiosa è che lei kelly mi sembra non mi ricordo come si chiama e che lei blu cioè che rappresenta anima dovrebbe stare qua ok quindi cosa succede che la mettono sempre nella posizione sbagliata ossia la fanno blu e la mettono nel mezzo o la mettono nel mezzo verde cioè correttamente ma sappiamo abbiamo memorizzato archetipicamente che lei è anima e quindi dovrebbe avere la tutina blu e stare a sinistra stesso discorso lei che è vestita di rosso la mettono al suo posto e la vestono di rosso perché effettivamente anima sta all'informazione che è da un'altra parte non è qua perché o alla tutina verde quindi ci appare anima ci appare verde nel tira del color test ok questa è l'opzione di quando anima ci appare verde nel tira del color test oppure di anima che ci appare blu nel tira del color test al posto di mente in ogni caso è tutta la rovescia volevo fare questa quest'altro commento e poi come dicevo cerco di sbrigarmi perché sennò viene troppo lungo il video e a questo punto questa foto la levo e mi concentro su queste due mi concentro su anche questo è molto curioso che come sappiamo coloro che iniziano con la i e hanno la doppia l e finiscono con at cosa succede che di solito la cantante che cosa fa la cantante la cantante si mette davanti la mano e tappa l'occhio destro ok e diciamo che fa apparire fa risalta l'occhio risalta sempre l'occhio sinistro no i cantanti ora vi faccio un esempio che ne so se noi mettiamo la parola i con at e mettiamo la parola o dell' dell'occhio cosa succede che vediamo ci sono vari risultati e vediamo un po aspettiamo vediamo cantanti ecco per esempio viene questa questa informazione qua piuttosto che questa informazione qua no siamo praticamente l'occhio viene tappato o viene in qualche maniera come faccio questo no come esempio per esempio qui si mette il risalto l'occhio sempre quest'occhio qui ok ora non voglio fare la sfilza di robe perché se no non si finisce più però è un continuo tappare quest'occhio sinistro o mettere il risalto quello destro sotto un'altra forma se facciamo il solito ragionamento la parte creativa sta se noi osserviamo l'occhio questo è il nostro occhio destro in realtà ok e questo è il nostro occhio sinistro invece se ci si guarda allo specchio è il contrario se si guarda la persona davanti vedremo che la parte che è sinistra per noi è la destra per lei però noi non ci si può incasinare perché se no non si finisce più allora cosa succede che in realtà è la parte del lobo sinistro che è quella creativa ok quindi praticamente se noi osserviamo se noi osserviamo qui è stata eliminata di questa persona viene eliminata la parte destra sarebbe la nostra parte sinistra quindi la parte creativa la nostra parte creativa viene assonnata diciamo in questo esempio qui questa è una teoria ma potrebbe essere il contrario di tutto tutto il contrario di tutto perché si sta a parlare di queste cose tanto allora quindi cosa succede che invece se stiamo a guardare queste immagini stiamo alle solite cioè viene sottolineata la parte se noi stiamo osservando questa foto per noi questa è la destra ok e questa è la sinistra nel lobo sinistro sta la parte creativa quindi siamo alle solite come se diciamo che la parte creativa viene annullata in questa foto qui notiamo che c'è il collegamento alla ghiandola pineale no ghiandola pineale cioè l'occhio della l'occhio dove produciamo tutte le cioè diciamo l'occhio importante del cervello dove che ci che sarebbe la 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 buttarla un po così no quindi cosa succede che qui stiamo esaltando cioè stiamo dando l'informazione o guarda praticamente io qui ti sto tappando la ghiandola pineale perché in realtà quando io ti faccio vedere che ti tappo la parte creativa ti sto tappando questa cioè la ghiandola pineale quindi andiamo avanti e c'è sempre il solito discorso perché vi ho fatto vedere un sacco di attori tante di cose che fanno sempre questi riferimenti perché al bambino di cosa sa fare un biglietto da visita con l'occhio tappato allora vediamo perché se no qui non scrivo facciamo un'altra cosa di cosa sa allora osserviamo e qui viene tappato l'informazione è ambigua perché se stiamo parlando di lei che si sta che osserva dall'interno di sé questa è la sua parte sinistra e quindi si sta diciamo annientando se stessa dando valore alla parte razionale che è poi la parte rettiliana ok se invece io osservo praticamente viene data l'informazione che sto dando valore alla parte artistica ma non è così perché la persona sta prendendo questa decisione sta decidendo di dare importanza alla parte del cervello rettiliano ok poi volevo dire anche per esempio qui c'è un esempio vedo siamo alle solite la mano e la mano destra cioè il tatuaggio se l'è fatto nella mano destra qui c'è addirittura il riferimento del terzo o e poi ci sono anche delle robe ci sono tanti esempi qui che stanno su internet di un sacco di gente che si cosa poi andiamo avanti che si mette tatuaggia taglia copre occhi eccetera allora ritorniamo al discorso che volevo fare diciamo che ora si è capito di cosa sto parlando allora ritorniamo all'occhio l'occhio destro non esiste proprio è nero l'occhio sinistro è rettiliano ritorniamo a bomba ritorniamo a bomba ossia ora faccio l'altro esempio levo queste queste scritte e poi concludo le mie riflessioni perché se no diventa come dicevo il video diventa troppo lungo allora cosa cosa vediamo in questa in quest'ultima foto di di lei no ce la prendiamo un attimo che cosa che cosa vediamo vediamo il solito discorso sono anima sto nell'asse ho deciso di stare nell'asse dell'antitempo cioè o comunque sto frequentando un antitempo perché c'è la fascettina gialla diciamo che sta parlando di anima in tutto il suo asse se vogliamo dirla senza senza metterci troppa malizia è anima che sta parlando di sé sia del tempo che dell'antitempo ok questa è l'anima va bene cosa tiene l'anima al solito discorso dietro c'è il verde questa figliola o gli danno la tutina verde e la mettono nel mezzo e lei invece rappresenta anima o gli danno la tutina blu ma dicono guarda che te vibri al verde ossia c'è l'interferenza e ti dicono che interferenza è perché in questo caso l'interferenza è potremmo osservare se lei viene dietro vuol dire che mente sta qui anima sta nel mezzo in un potetico tirare del color test vediamo che spirito è la mano che sta davanti ok quindi spirito se noi osserviamo ci mettiamo come osservatori qua siamo alle solite e c'è tutte le sfere invertite perché se noi osserviamo questa è giusto per farmi capire un po' meglio perché se no non si capisce se noi osserviamo questa immagine in questo modo si capisce un po' di più ok ossia che gli spazi sono vediamo se riesco a dirla meglio allora riprendo di nuovo questa cosa la cancello perché se no non riesco a fare questo discorso praticamente che cosa si nota prendiamo un colorino neo ok cosa si nota che questa mano è rossa questa mano contiene l'occhio di gatto rosso ok e in un asse diciamo che se noi osserviamo la mano sta davanti a tutto ok il corpo di lei sta nel mezzo ok e il verde sta dietro ok si cioè se noi consideriamo che questo è lo sfondo e quindi sta proprio dietro ok e quindi ci mettiamo il verde qua come diciamo come ordine questo sta dietro poi vediamo che la tutina blu questa tutina blu viene prima della mano e la mano sta davanti a noi sta davanti a tutto ok ed è rossa quindi siamo alle solite con il discorso del teadeclortes che spirito sta al posto di anima mente sta al posto di spirito che ha preso il posto di anima e anima sta nel mezzo al posto di mente e si ritorna lì che a quest'anima la fanno vibrare di verde cioè la fanno vibrare blu ma al posto di mente per cui è sostanzialmente mente che vibra come anima cioè non sta vibrando la sua cosa e l'informazione che ci arriva che cos'è quello che ci c'è ci viene detto tranquillamente con questa immagine se uno vuole leggerla secondo questo tipo di chiave di lettura ossia che l'anima viene parassitata per cui la parte animica in qualche modo viene sostituita dalla parte rettiliana del cervello quindi c'è l'occhio di gatto l'occhio verticale e c'è un discorso dell'antitempo ossia che nel piano cartesiano conosciamo questo è queste sono gli assi disegnati come al solito come al solito e cosa cosa notiamo notiamo che è come se ci sta dicendo l'ottante sta di qua perché stiamo parlando di un verde stiamo parlando di un rosso stiamo parlando di un antitempo e di uno spirito di un'anima cioè di un blu che non è vero è di un blu che in realtà sta al posto del rosso di un blu che sta al posto di mente per cui ci sta ci sta parlando di questo ottante qui cioè dei lux ecco io concludo qui le mie riflessioni sulla sigla di occhi di gatto e sull'uso dei colori di questa di questo trio compatto che è un trio compatto ma non unito non un trio fatto di unione è un trio compatto il trio compatto abbiamo imparato che è la parte che raggiungono questi qui come avevo detto quest'altra immagine invece ci parla di loro se ci ricordiamo quest'altra immagine sta parlando di loro ok sta parlando di loro dove abbiamo visto che guardano in alto perché vediamo un po' perché ho messo questo ok allora praticamente guardano in alto allora queste sono il discorso che faccio prima è lottante di quelli del piano di sopra per esempio in questa foto guardano verso l'alto nel mezzo c'è mente che sta in realtà c'è il violetto che è l'anti energia ed è la solita col capello liscio cioè la solita col capello liscio che è anima viene messa al posto di mente però in questo caso addirittura è mente anti energia cioè che sta qua su in cima che va verso l'alto cioè che sono quelli del piano superiore quelli del piano superiore sono coloro che in qualche modo uno potrebbe dire arrivo come ad esempio la buddità raggiungi la buddità raggiungi quell'estasi raggiungi quella stai arrivando alla all'illuminazione e poi ti fermi ti fermi e dici ok ora contemplo il tutto ossia è un trio compatto cioè raggiungi uno stato sempre della triade cioè di una roba separata ma che non si è unita integrata in modo definitivo quindi questo trio compatto è la parte un po' precedente all'unità cioè di quando si fa il triade color test diventiamo una sfera bianca ma non è trasparente quindi concludo veramente perché se no mi dilungo veramente tanto il trio compatto è un trio del color test che ti fa arrivare a dire guarda ci arrivi alla sfera bianca è un trio compatto ma mai unito ma mai invisibile ma mai integrato quindi rimani spacchettato rimani spacchettato e siccome sei un ladro anche te quindi senso di colpa non stare a giudicare loro che ti stanno facendo vibrare le sfere per mantenerti spacchettato allora questa è la conclusione del video perché veramente se no diventa troppo lungo pensavo di metterci 15-20 minuti parlando di occhi di gatto ma evidentemente insomma mi sono un po' dilungata spero che il video insomma sia se non altro curioso e crea spunti di riflessione nel momento in cui osserviamo i colori dei video delle cose o delle scelte diciamo scenografiche piuttosto che contestuali di alcuni film alcuni cartoni animati video e cose che comunque passano un'informazione e volevo appunto concludere dicendo che il cartone animato sia la sigla che emotivamente trasporta il bambino verso un viaggio sciamanico perché quando si ascolta della musica ci si sposta in un luogo coscienziale più ampio pieno di informazioni archetipiche di sé insomma sono veicoli le sigle dal mio punto di vista sono stati veicoli e lo sono tuttora i nuovi cartoni animati che fanno veramente che sono veramente brutti diciamo dal mio punto di vista non hanno nemmeno quel lato artistico che almeno un tempo si riusciva a intravedere e quindi sono appunto mezzi per per veicolare delle informazioni di destrutturazione fin da piccini dell'anima di mente di sfido di queste sfere e dell'ologramma virtuale per mettere già il bambino in quella stanza piena di muri in quella stanza con i muri dove stanno e si spostano inottanti dove non si devono spostare questo è il mio punto di vista con questo vi saluto e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!